Da quando l'uomo tenta di abitare la terra si trova dinanzi a una barriera che gli impedisce la sopravvivenza e per vivere deve sfondare o farsi largo in questa barriera che inizialmente è vista dall'uomo come la potenza suprema da cui l'uomo è sopraffatto e che ben presto egli chiama demonico, divino e poi Dio. Inizialmente c'è questa lotta immensa tra il Dio che vuole impedire all'uomo di farsi largo e di vivere e l'uomo che per vivere deve in qualche modo uccidere Dio. Poi l'uomo si renderà conto che abbattendo quella che ho chiamato la barriera i frammenti di questa barriera che sono poi i vegetali, il sole, il cielo, la terra, gli alberi, gli animali e l'uomo si renderà conto che per vivere deve possedere, cibarsi, usare questi frammenti della barriera infranta e allora incomincerà la lunga storia dell'amicizia, inimicizia tra uomo e Dio. Potremmo dire che la tecnica è l'ultimo Dio perché se prima dicevo che l'uomo da un lato deve farsi largo nel demonico divino e quindi in qualche modo ucciderlo. Ora questo farsi largo ha preso forza ed è diventato l'ultimo Dio di modo che potremmo dire che Dio che ostacola l'uomo è il primo tecnico e che la tecnica è l'ultimo Dio.